No! Questo qua l'hai portato tu? No, lui! Ah, ecco! Beh, però non è che possiamo fermarci, c'è un filo, altro cazzo! Ecco Giovanni che manda un sms, ed è così che si fanno i video che poi vanno su YouTube. Con la luce di posizione c'è un centro da fare, siamo troppo avanti ragazzi, siamo avanti una spanna qua. Viva gli alpini! Nikon dell'esercito del 1934. Rieccolo! Vediamo passare lanciatissimo. Abbiamo fatto un vero apone ragazzi. Il nuovo cameriere? La tangenziale, è il nuovo servizio più rapido. Eh? Ah cazzo! Dio! Adesso fare una notte posizione! Dio! A fond! Dio! 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 Ho! O Dio! 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 soppalzato in avanti ti fa fastidio perché sto bene e tu cosa fai nel gruppo? tassista allora chi che mi mette? per cos'è questo Roby? è per scaldare l'uomo che ha preso la feltetta no avevo preso una cosina per scaldarti io magari dopo dopo molto dopo ma è bravo però lo spieghi? lo spenta? ah no? oh! Tu immagina che io non lo devo sapere Tu punti è la verità di quello che intenta fare Recibire le situazioni per farlo creer Che realmente è lo corretto, che cumple con tu bebé Te lo chiedi, diciamo che non ti amo conoscere Si intervienes di fiertas, che non sabes perdere Che non controllas tu vida, se non tienes il poder Se lo tienes, lo usas pa' cagarlo Ecco, The Lards of Dogtown E qui? Eh vai, siamo in linea Marco tu sei l'unico che non si è allineato a noi Ah, ce la puoi fare Ce la puoi fare, abbiamo un discreto successo Un discreto successo